Menedetto sedicesimo ha ricevuto un'udienza una delegazione del CONI, con gli atleti che hanno vinto una medaglia ai giochi olimpici di Londra 2012. Mi pare che a Londra, detto Ratzinger nel suo saluto, abbiate conquistato ben 28 medaglie, di cui 8 d'oro. Ogni attività sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico, richiede la realtà nella competizione, il rispetto del proprio corpo, il senso di solidarietà e di altruismo, e poi anche la gioia, la soddisfazione e la festa. Tutto ciò presuppone, affermato ancora, un cammino di autentica maturazione umana, fatto di rinunce, tenace, pazienza e soprattutto di umiltà, che non viene applaudita, ma che è il segreto della vittoria. La pressione di conseguire risultati significativi non deve mai spingere a imboccare scorciatoie, come avviene nel caso del doping, poi ammonito Benedetto XVI. Lo stesso spirito di squadra, sia di sprone di evitare questi piccoli ciechi, ma anche di sostegno a chi riconosce di avere sbagliato.